ah vediamo come è il tempo oggi che davano una temperatura un po' più fresca che c'è che è fresco ora ti prendi il suo caldo ma chi? oh senti vedi che da dicembre che mi è cessata l'arma solo devi uscire solo devi uscire appena esco mi dite ah c'è caldo appena merengio mi dite c'è freddo e vado a decidere però io così dallo psicologo mi devo andare non è che è possibile vabbè dico magari un po' più di fresco no no me ne fatti niente ti devo vedere sciolto tipo calippo dice dov'è oh ma quasi sta sudando troppo ma qualche nuvola dico che cosa c'è qua so che? ma che ci fai dentro ma perché non esci? no mi sto guardando la televisione ho capito ma spegni ed esci che magari ti rinfresca un poco uscire col ciò caldo ci sono 40 gradi fuori ma che pazzo è poi io ho tutta installata da sopra e calda il triplicato no a dicembre se ne parla anzi soffia più forte che c'è caldo va va soffia soffia ah che bello si si soffia soffia ma si soffia soffia ma che stai facendo? sto tirando la colla la colla secondo te è un caldo appiccicoso come lo devo fare? ignorante senti ma un po' di pioggia dico la puoi fare? no ultimamente bevo poco e quindi per bene faccio avanti dai fai un po' di pioggia e stai incito no no guarda forza cantiamo scende la pioggia ma che fa? micchi cantanti antichi io sono più moderno preferisco Achille Laura scende la pioggia ma che fa? oh si si crolla il mondo addosso a me oh no no per amare sto morendo oh mio dio e pure pesce non caldo stai morendo oh si si oh no no oh oh si oh oh fotte tempo eh sole basta caldo basta caldo sto facendo il mio lavoro va bene e cosa stai facendo? sto buttando 4 gocce d'acqua cosa faccio il caldo umido? no no il caldo umido no il caldo umido si dall'altro oggi sabato ho saputo che ci sono donne che sono uscite dal parrucchiere i capelli ci devono diventare gonfi tanti tipo platinetto umido umido caldo umido ma questa affa che c'è oggi ma che è? che è tutta forza? ma tutta forza che cosa? che c'è un affa che si sta morendo si lo so sono io col fondo che mai non sto vento caldo ho capito e non la puoi smettere? non posso mi sono fatto la doccia e mi si asciugano i ranci si ho capito ma troppa afa c'è eh buono così non mi cessate più l'anima anzi velocità docca doppia afa 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 afanculo a a Grazie a tutti.